ciao allora oggi vi parlo della cipria compatta dell'essence, questa è l'essence pur skin anti spot compact powder 10 grammi il colore è lo 02 sand e promette di essere una cipria compatta per pelle mista e grassa devo dire che mi è piaciuta abbastanza cioè l'ho proprio finita si vede che l'ho finita quindi non si può dire niente mi è piaciuta sì ecco unica cosa se proprio vogliamo trovare una cosa negativa è la composizione perché si sgrettola molto velocemente quindi dovete andare a prelevarla magari con un piumino perché col pennello si sgrettola molto velocemente anche se non mi è mai caduta o cose varie quindi è proprio la composizione per il resto questa cipria per il prezzo che ha dalla pelle misto grassa si potrebbe anche andare bene perché opacizza tiene a bada comunque la lucidità la si può riapplicare durante il giorno che non fa l'effetto strato non fa l'effetto polveroso e anti spot come dicono ed è no per le imperfezioni non fa niente assolutamente però comunque per la pelle mista si buona buona cipria oltretutto il colore non è intenso cioè non fa una copertura tende un attimo a compattare la grana della pelle compattare il colorito e quindi si è un buon prodotto per il prezzo che ha da dare bene questo e colorate in base alla vostra cameragione ovviamente ma il colore è molto molto tenue quindi davvero non vi colora più di tanto tranquillamente sì mi è piaciuta la promuovo e credo che adesso ne sto provando altre ma credo che la potrei anche ricomprare quindi assolutamente fatemi sapere se l'avete provata come si trovate e io spero che sta utile e al prossimo video ciao